Molti ragazzi interessati a creare una propria impresa hanno preso parte alla quarta tappa del tour di Giovani Sì, il viaggio informativo per raccontare il progetto regionale rivolto ai giovani toscani. Dopo Ponte d'Era, Siena e Rosegnano il tour è arrivato al polo tecnologico lucchese all'interno dell'evento Imprenditoria giovanile e femminile, strumenti ed esempi per la creazione di impresa promosso da CNA e Camera di Commercio di Lucca. A raccontare le opportunità per fare impresa sono stati alcuni giovani che lo hanno utilizzato affiancati dallo staff di Giovani Sì e dal settore regionale politiche orizzontali per il sostegno alle imprese che ha illustrato nel dettaglio il bando creazione di impresa microcredito. Giovani Sì è il progetto che si occupa, che aiuta speriamo i giovani a diventare autonomi e nello specifico abbiamo un focus sulla misura di fare impresa per cui affronteremo grazie anche al racconto di alcuni giovani che hanno beneficiato proprio di questa misura, cosa vuol dire fare impresa in Toscana e quali sono le opportunità che la regione toscana offre appunto a coloro che vogliono costituire impresa sul nostro territorio. Nel corso dell'incontro c'è stato il tempo per parlare dei servizi offerti alle start-up dal polo tecnologico lucchese ma anche sui nuovi modi di fare impresa sulle consulenze e le agevolazioni della CNA per le imprese giovanili e femminili.